Io sono figlio di gente di mare. Per sette generazioni i miei hanno fatto gli ufficiali di marina. Si accoglie sempre. Poi si provvede come si può, ma si accoglie sempre. Il diritto da Prodo non si nega a nessuno. La diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro ha scelto ancora una volta la strada dell'accoglienza e dell'ospitalità. Quattro migranti eritrei sbarcati dalla nave di Ciotti e provenienti dal centro di Rocca di Papa sono infatti arrivati ieri sera ad Arezzo. È normale che la chiesa accolga chi è nelle difficoltà. La diocesi aretina aveva offerto sin da subito la sua disponibilità alla conferenza episcopale italiana. Mi sembra che sia da sottolineare soprattutto il gesto che come chiesa vogliamo dimostrare. Accoglienti a tutti, accoglienti delle povertà, dei nostri territori, della gente di qui. I giovani, tutti tra i 20 e i 24 anni, saranno ospitati adesso nel centro di accoglienza di San Vincenzo in via Fonte Veneziana. Di loro si occuperà la Caritas diocesana. Io e un collega siamo andati a Rocca di Papa ad accoglierli. Abbiamo trovato una bellissima situazione, un centro di accoglienza estremamente funzionante con un'equipe medica. I ragazzi sono in buona salute, sono molto provati visibilmente sofferenti, psicologicamente fragili. Non è facile in questi giorni magari la comunicazione con loro perché soltanto uno dei quattro parla un po' di inglese e hanno veramente dei percorsi di vita drammatici sia nel loro paese nativo sia nel percorso che hanno fatto fino alla Libia e poi l'attraversamento fino alla Sicilia dove sono poi alla fine sbarcati. Rientrano, non è un programma di accoglienza relativo ai CAS e quindi al Ministero. È un programma proprio della Chiesa Cattolica Italiana e tutti i servizi di mediazione, di alfabetizzazione, di controllo della sanità, supporto legale, tutto quello che serve noi lo metteremo in pratica nei prossimi giorni.